Nell'attuale fase di regular season nessuno ferma la pallamano Trieste 1970 a Chiarbola contro il Belluno diretta concorrente per il vertice della Silver arriva la settima vittoria consecutiva di stagione 36 a 24 che significa sei punti in classifica in più sia sui Veneti che sul Romagna battuto dal Campus Italia con annessa vetta consolidata davanti a tutte e un'ulteriore spallata importante al campionato. Era partito meglio il Belluno a inizio match con i gol di Lorenz e Guerrero a regalare il doppio vantaggio ospite. Trieste aveva fallito un paio di conclusioni offensive con Manojlovic tra i pali a fare la differenza. Le due reti di gap rimangono al quinto minuto con Garcia a evitare guai peggiori a furia di respinte. I Veneti hanno decisamente una marcia in più e vanno sul più tre con Argentini in ala. Cambia tutto nel giro di un paio di minuti. Urbaz in contropiede, Munoz due volte dai 7 metri e Mazzaroli in seconda fase piazzano il break per il primo vantaggio interno del match. E poi botta e risposta da prima con il ritorno di fiamma di Belluno che piazza la doppietta con Argentina e il gol in ripartenza di Lorenz. Poi il 3-0 firmato Munoz, Sandrine e Parisato ricuce nuovamente lo strappo quattro minuti dopo sino a un nuovo vantaggio di Trieste con lo stesso trio di qui sopra. L'ultimo acuto del primo tempo è ospite con Lorenz a dare il meno 2 sulla sirena di metà gara. Con Garcia a parare libero simile a cavallo tra primo e secondo tempo, la coppia Wisman-Sandrine a realizzare in apertura di ripresa un piccolo pezzetto di inerzia in mani bianco-rosse rientrando dagli spogliatoi. La forbice di vantaggio si allarga ulteriormente nei minuti seguenti con la pallombella di Urbaz sotto la traversa a regalare il più 5. Belluno subisce il contraccolpo, non approfitta nemmeno di qualche minuto di superiorità numerica per tornare sotto nel punteggio. Urbaz è implacabile in ala e sigla il 22-15 che assomiglia già ad una serie ipoteica a 18 minuti dal termine. Argentine e Chiriaco provano a tenere a galla i Veneti ma in attacco i Giuliani sono un'autentica macchina da guerra e chiudono la pratica a 10 minuti dalla fine avanti di 8 gol e con il vantaggio che diventa anche di più 12 nei minuti conclusivi. C'è dunque solo da festeggiare assieme al folto pubblico di Chiarbola per l'ennesimo risultato pieno in un girone di andata sin qui perfetto per i colori alabardati.